E marginati e discriminati, senza assistenza a scuola, con l'incognita futuro. Gli interessi di potere stanno bruciando l'infanzia dei nostri figli, trattati come pacchi postali. Basta l'emosinare il diritto allo studio, mentre il piano di zona 4 ancora ferma al palo. Le testimonianze dei genitori e dei bambini autistici fanno rumore e arrivano al cuore, ma aspettano ancora risposte e rassicurazioni dalle istituzioni dopo tanti anni. Stamane la delegazione di genitori ha incontrato il sindaco Fessa a Palazzo di Città, al primo cittadino che ha ascoltato le stanze dei presenti, hanno chiesto un aiuto per sbloccare una situazione diventata drammatica. Un balzer di poltrone, ballato da anni sulla pelle di famiglie e bambini autistici, avvertono alcuni dei genitori presenti. Un calvario infinito che potrebbe finire anche in tribunale, non lo esclude Carlo Pecora, presidente di Inau. Ci siamo resi conto che con l'inizio dell'anno scolastico molti dei nostri figli hanno gli assistenti alla comunicazione, almeno prescritti dall'ASLA, ma al dato di fatto c'è chi ha zero ore, chi ha due ore, chi ne ha prescritte 15 e ne fa tre, chi zero. Non si riesce a capire il perché questo piano di zona, dopo tanti anni, dopo tante diffide, non riesce a partire, non riesce a fare una programmazione triennale in modo da poter garantire l'assistenza per i nostri figli. Significa non avere quegli strumenti indispensabili all'inclusione, ovvero lo scopo vero di mandare i nostri figli a scuola non è quello di parcheggiarli lì, di avere una sorta di babysitter pagata dallo Stato. Lo scopo è quello di riuscire a creare quel minimo di condizioni per cui essi possano avere dei contatti con i loro coetanei. Innanzitutto i nostri figli non devono essere considerati come dei pacchi postali, cioè nel senso che vengono queste figure, innanzitutto bisogna vedere se sono figure formate, poi il bambino deve relazionare con questa figura, la figura stessa deve relazionare con i nostri figli, con la scuola che non è semplice perché comunque far includere persone, figure esterne, anche per la scuola è problematico, cioè anche l'amministrazione della scuola. Noi cozziamo contro tutte queste problematiche che per gli altri non hanno proprio idea. Tra due mesi i nostri bambini saranno di nuovo, punto e da capo, senza nessun tipo di assistenza scolastica, assistenza specialistica. Già due anni fa, nel 2017, io ho diffidato il piano di zona, ho diffidato la regione per avere il servizio. Servizio nel 2017, anno scolastico 2017-2018, non c'è stato. Non si può andare oltre Natale, le cose si devono aggiustare subito. Questo intervento del piano di zona è proprio fuori luogo, perché c'è gravità e gravità, ci sono diversamente abili e diversamente abili, però questi ragazzi si iscrivono a gennaio, lo sanno tutti, hanno le diagnosi, hanno tutto però incapacità.